Le scuole di Barletta costrette a chiudere a causa della diffusione dei contagi da covid tra alunni ed insegnanti riapriranno in tempi brevi, ma soprattutto, dicono dalla prefettura dove ieri sera si è svolto un incontro tra la ASL, il comune e la provincia, gli istituti in cui si dovessero verificare in futuro altri casi di coronavirus non verranno più chiusi se non in presenza di situazioni particolarmente gravi o poco controllabili. Il confronto tra le istituzioni si era reso necessario dopo il contagio accertato nei giorni scorsi di sei insegnanti del comprensivo Pietro Mennea, di uno studente dell'ultimo anno dell'izio scientifico Caffiero e di una docente della scuola elementare Girondi. Situazioni diverse che stanno determinando percorsi di ripresa dell'attività scolastica differenti. I tre plessi del Mennea rimarranno chiusi sino al 30 settembre in attesa che vengano portate a termine le indagini epidemiologiche sul personale scolastico entrato in contatto con le docenti positive. Lo scientifico invece riaprirà lunedì mattina, per la giornata di domani sarà attivata la didattica a distanza, mentre alla Girondi non c'è stato bisogno di interrompere le lezioni dal momento che l'insegnante positiva al Covid non si è presentata a scuola e i tamponi effettuati su 16 colleghi hanno dato tutti esito negativo. Un aiuto determinante nella gestione dei casi Covid nelle scuole, spiega il sindaco di Barletta, Mino Cannito, arriverà dai test rapidi, i cosiddetti POCT, che le squadre speciali della ASLBT saranno in grado di effettuare ad alunni e personale scolastico. L'esito dei tamponi sarà disponibile in meno di 15 minuti. Le scuole d'ora in poi non saranno chiuse, salvo che il direttore del dipartimento di prevenzione non lo dica e non lo chieda. Per il momento saranno chiuse soltanto le aule che sono state i cui docenti o il cui alunno è stato contagiato e che appartiene a quella scuola, a quell'aula. Quindi ci sarà un confinamento delle aule con messi in quarantena dei docenti, previo ovviamente controllo del tampone e ci saranno delle onnevità sui tamponi, saranno possibili avere una risposta al tampone con il point of care in 12 minuti. l'ASLBT si è dotato di questa strumentazione e mi diceva il direttore generale che proprio stamattina iniziamo questa attività di diagnostica presso il pronto soccorso di Barletta. A Barletta sono più di 50 i casi di coronavirus ancora aperti e di un centinaio le persone in isolamento. Genitori, scuole ed istituzioni, prosegue Cannito che sul tema si è confrontato a lungo con l'epidemiologo Lopalco, sono chiamati in questa fase delicata a collaborare nella gestione di ogni emergenza e a seguire i protocolli stabiliti con l'ASL senza farsi prendere dal panico. I genitori devono fare la loro parte, tutti dobbiamo fare la loro parte, soprattutto anche io dico i genitori, i docenti, i dirigenti, i collaboratori scolastici, il sindaco, la provincia, tutti qua devono fare la loro parte. Esiste un problema a banchi per le scuole di Barletta? I banchi non arriveranno prima di ottobre, mi dicevano che partiranno dal quartiere Tamburi di Taranto e da Taranto inizierà la distribuzione dei banchi, ma ancora oggi il Ministero non ha comunicato la data certa di consegna dei banchi.